E poi, dato che sono un po' smemorato, dicono le mie segretarie, questa mattina ne rincorrevo una per abbracciarla e mi ha detto, ma Presidente l'abbiamo fatto un'ora fa, dico vedi è la memoria che non mi manca. Io lo so che dovrei togliere dal mio repertorio queste piacevolezze, ma non ci riesco. Sono ancora, alla mia verenabilità sono rimasto un monello.